Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Oggi il nuovo video Mookbang Mookbang McDonald Perché voi amate i Mookbang McDonald Quindi a me piace farli Perché amo mangiare così, però va bene Cerco di non mangiare sempre così E oggi mangeremo Questo panino gigante che da quanto ho capito È il My Selection BBQ, qualcosa del genere Però io ho chiesto di non metterci dentro La pancetta Perché non mi piaceva Quindi ok Andiamo a mangiarlo Vado È la fine del mondo Davvero troppo buono È davvero tipo la fine del mondo Quando voi vedrete questo video Io sarò al mare Tipo a nuotare O fare cose simili E come al solito non so parlare Ma andò insieme Quindi o mangio, parlo E avete visto forse anche qualche live dal mare E mi vedo l'ora di farvele Perché penso che Siano più belle di queste live fatte da casa Diciamo la verità Noi vogliamo mangiare sano Ad essere in forma Ma quanto sono buoni questi panini Facciamo anche delle pause Tra un morso e un altro Amo il fatto che metta a fuoco il panino e non me Ma va bene così Tra l'altro la cosa Perché alla fine Voi volete vedere il cibo Secondo me Se guardate questo video Non me L'altro giorno Mi sono presa male Perché con una mia amica Volevamo andare da McDonald's Ma Hanno chiuso quello Dovevelo di solito Sono tipo rimasta Molto male Perché io volevo appunto Mangiare McDonald's Ma ce l'hanno chiuso Così ho dovuto cambiare McDonald's Ma vabbè Quindi Il bello è che stanno a te le 4 Partirò per il mare E mi ero detta Siccome ando in hotel E so che in quel hotel si mangia tanto e bene Mangio meno a casa Cioè Mangio insalata a casa Così quando poi arrivo di quella settimana Non ingrasso più di tanto E che cosa mi sto mangiando Il panino del McDonald's Sta per uscire il formaggio e il cetriolo Voglio sapere Quando devo parlare mamando Faccio così Voglio sapere Qual è il vostro panino preferito Del Mac Il mio è Per angresso leggero Il Big Mac Il Mac Chicken E questo Tutti gli altri Ora Chiara vi saluterà Ciao babies 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 No ti prego Ma almeno è più di la porta Hola babies E nulla Poi fatemi sapere anche che video volete vedere ultimamente Ho appuntato qualcosa Tipo cosa mangio in un giorno In room tour C'erano anche altri video Ma purtroppo Li ho persi Perché mi lasciate un sacco di commenti al giorno E faccio un po' fatica a trovarli tutti Io questo panino non lo sto mangiando Lo sto ingoiando praticamente È troppo buono È tipo la fine del mondo La cosa assurda È che era gigante È che io l'ho già finito Ma Conosco persone Che nel mio tempismo Ne mangiano tre Non so come facciano a Mangiare Anche a finirli Ma esiste anche questa gente Volevo lanciare una Una lancia Volevo lanciare una lancia A mio favore Non so se si dice così Credo di sì Comunque Mi raccomando Mentre sono al mare Infatti bravi Faremo tante live E vi porterò un po' con me Un po' riposerò Però ci sarò Quindi fatemi sapere Tutti i video che volete Che io filmi al mare Tipo se volete vedere Un tour dell'hotel Se volete vedere Cosa ho messo in baligia Che trucchi ho portato Che trucchi farò La spiaggia Dove sono Qualsiasi cosa Voi scrivetemelo Spero di aver tenuto compagnia Vi mando un bacio E nulla Buone vacanze Anche se voi partirete E so che alcuni di voi Si sposeranno Quelle grandi Quelle piccole Stanno facendo gli esami Se non sbaglio Di maturità Quelle un po' più Più grandicelle Mentre quelli piccoli Alcuni hanno gli esami Terza media Se non sbaglio E nulla Vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao